E' così soffice, le peccano mi ci vanno mai avvicinare, vuoi toccare la lana di una bella? Sembra il zucchero filato, basta, quale zone? Distretto foresta pluviale, vine to hug. Ecco, le telecamere stradali dell'intera città, oh è così emozionante, beh insomma sì, ecco, non faccio mai niente di così importante. Ma è l'assistente del sindaco di Zotropoli? Oh, sono solo una segretaria sopravvalutata, credo che il sindaco Lionheart volesse il voto degli ovini, però mi ha regalato questa bella tazza. Oh, è bello sentirsi apprezzati. Brutweather? Ah, è solo un simpatico soprannome che mi ha dato, una volta l'ho chiamato Puzzonarte e non se l'è presa, anche se non è stata una gran giornata per me, sì signore? Le avevo detto di disdire i miei impegni. Oh, cielo, meglio che vada, fatemi sapere cosa scoprite, è stato un vero piacere per me poter... Si sbrighi Brutweather! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Potrezi ti quando non riesce a dormire se quando da sola... Oh, no! Shhhhhh... E quindi quando riesce a dormire se quando da sola?